Circa 105 milioni di euro stanziati per gli investimenti dei 391 comuni siciliani, di cui 26 milioni immediatamente assegnati ed erogabili. È stato pubblicato infatti il decreto a firma congiunta dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e Autonomie Locali e dell'Economia relativo al riparto del Fondo Investimenti per il 2022. Alla luce del regime di esercizio provvisorio del bilancio, infatti, al momento è possibile impegnare esclusivamente i 4 dodicesimi della dotazione complessiva. Soltanto in seguito all'approvazione del bilancio per il triennio 2022-2024 si potrà provvedere alle successive assegnazioni ed erogazioni tenendo conto della spesa autorizzata in sede di manovra finanziaria. La novità di quest'anno è l'inserimento in elenco del comune di Misiriscemi, nato appena un anno fa dall'unione di otto frazioni distaccatesi dal comune di Trapani. Si tratta di un contributo importante, sottolinea l'assessore Zambuto, specialmente adesso, dopo quasi due anni di pandemia che hanno prodotto gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali. La regione si dimostra ancora una volta al fianco dei comuni siciliani. Solo gli investimenti possono restituire futuro alla Sicilia e ai suoi comuni. E su questo ha puntato il governo musumeci, dice ancora l'assessore, promuovendo la riqualificazione della spesa. Nei 391 comuni c'è anche la provincia di Caltanissetta con quasi 5,5 milioni di euro, di cui 1,3 in arrivo, mentre ad Enna arrivano 5 milioni e 400 mila euro, di cui 1 milione e 300 assegnati e derogabili.